in diretta fatica assoluta ore di ricerca la leggenda vuole Roby che se si trovano subito non si trova un cazzo dopo e infatti non abbiamo trovato niente è finita dopo ore quando abbiamo detto cos'è che abbiamo detto è finita fallimento totale e invece eccoli qua si vediamoli bellissimo the second fantastico the third bellissimi vai con la cavata pallo bello da sotto mi raccomando occhio che la terra è dura viene bravo bellissimo sanissimo freschissimo purissimo basta qui lo appoggiamo qua bellissimo bianco sotto perfetto e statino ottimo questo sì che è onesto va bene gliel'hanno più gusto ottimo super purcino poggiamolo qua terzo incredibile non c'è niente abbiamo camminato come pazzo mostramolo oh finalmente la tagliatella ce la facciamo sì adesso ci mettiamo a cercare un po nessuno l'avrebbe detto davvero ormai ce l'avevamo a resi e vai eccoci qua ragazzi fungaioli di caronti un caldo bestiale si dicevano che i porcini appena erano finiti ma noi siamo venuti a prendere quelli usciti con la grandine l'altra volta yes vai roby facci vede eccolo facci vedere che belli che sono questi sono quelli della piazza della scorsa settimana ci sono dei gambi che sono pietra in profondità si attacca drittura alle piante madonna davvero e adesso questo sotto tra l'altro ne abbiamo trovato uno enorme purtroppo marcito tutti statino bellissimo guarda qua che radice guarda qui quanto è profondo il gambo yes sanissimi poi sanissimi duri profumati chissà se non troviamo degli altri veramente difficile oggi grazie 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 grazie